ciao a tutti ragazzi sono adenna e benvenuti in quest'anno nuova puntata della serie oggi siamo nella trenta quattresima e come se riparti ma che vedi io come sentite qua c'è Amore Same che è bella allegro ah io non ti ho più sentite credevo che che continuavi e così invece e se hai ripartito a capo e... vabbè c'è Amore Same comunque ciao a tutti beh ecco sei ripartito? sii da quel dì eh non ci sta capendo più niente devi dire ciao a tutti no dai dai riparti che sennò passiamo nella perda ok almeno facciamo giusto 3,2,1 via ciao a tutti ragazzi sono adenna e benvenuti in questa nuova puntata della serie oggi siamo nella trentaquattresima puntata qui con me c'è Amore Same ciao a tutti ok come vedete qua c'è un bel case quad track con un bel erpicetto vabbè da 12 metri li ho affittati ovviamente perché dato che dobbiamo iniziare un po' a fare con le barbabietole patate scusa no barbabietole sì barbabietole non avevo voglia di star lì con culo da 8 metri abbiamo già fatto neanche un giorno fa per cui ho voluto prendere questo tanto l'ho pagato più o meno mille euro per cui va bene allora intanto oggi dobbiamo comprare un macchinario nuovo oggi un pezzo e domani un altro pezzo cioè nel senso oggi un pezzo e nella prossima puntata un altro pezzo oggi ci compriamo allora raccolta barbabietole questo grim ft 300 perfetto comprato nella prossima puntata compriamo l'altro e eh qua e andiamo a come dire raccogliere le barbabietole siamo a berrino no non mi veniva a raccogliere le barbabietole non mi veniva la parola per cui ecco qua faccio danni sì questo trattore è un po' grande per questa mappa qui anche sì un po' tanto subito ci avevo affittato il 936 ma poi mi faceva il 6 all'ora e quindi ho deciso di prendere questo giusto per non ma vabbè non è fatto male giusto per non perdere tempo perchè almeno così andiamo tranquilli beati ok intanto c'è Morisame che vuoi dire tu cosa stai facendo ho preso il 69 20 7 e qui dietro la simulatrice vedo che non si è capito non si è capito non si è capito ho detto che ho 69 ah beh sì praticamente sta seminando le barbabietole ecco eh sì dato che dobbiamo iniziare non sapevamo bene cosa fare se ci sarei patate le barbabietole o maiali poi per i maiali ci servono le patate oppure è legna e ci siamo date le barbabietole quelle che ci costano meno perchè non dobbiamo comprarci assimilatrice non dobbiamo comprarci cioè i macchinari due costano meno per cui siamo messi meglio e boh così aspetta ma per i maiali ci servono le patate ma hai detto patate e barbabietole no solo patate ma ma che cavolo vabbè tanto noi continuiamo come vedete tanti soldi secondo sono fuori sì sì ok d'altro abbiamo nel frattempo vabbè vedete che adesso stiamo facendo di tutto perchè abbiamo trabbiato tutto dietro le quinte non mi ricordo neanche dalla scorsa puntata cosa abbiamo fatto sinceramente se te lo ricordi? abbiamo le balle le balle quadri ah razione mista è vero abbiamo fatto la razione mista ah sì era una puntata ancora prima eh sì me l'hai fatto venire in mente abbiamo fatto la razione mista la scorsa puntata adesso nel frattempo ci siamo trabbiati tutti gli altri campi all'infuori del 26 che avevamo già trebbiato l'avevamo mandato simone a trebbiarlo mi sembra eh adesso stasera simone non c'è ogni pomeriggio perché vabbè poi dipende da quando vi vedete voi il video ok ah tra l'altro ragazzi come avete visto è cambiato la programmazione per cui il farming adesso lo vedete cosa sto seminando con la similiatrice alzata so anch'io che vado vado 40 all'ora l'importante è che non si emili mais poi ancora così così solto eh ah neanche non ti sto dal dicendo che lo sei però capita ogni tanto eh stavo dicendo che è cambiata la programmazione per cui il farming adesso lo vedete eh non più tutti i giorni ma una volta ogni due giorni per cui le programmazioni che facevo eh quando usciremo riusciremo a arrivare la puntata tot faremo tot non andrà più bene cioè nel senso finirà la serie il giorno tale non va più bene perfetto andiamo al campo 39 adesso mi sembro eh 25 sì 39 qua andiamo prima a 45 e poi ragazzi c'è da pensare a prendere anche un altro campo un mortano aveva pensato al segno al 29 al 33 poi vediamo tanto adesso l'urgenza non c'è e c'è 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 11 11 11 ah sì anche poi i campi tipo 42 39 eh questi qui vicino alla farm li facciamo tipo a frumento almeno almeno orzo almeno quando ci serve da da tagliare per prendere la paglia siamo anche vicini io vedo già per il futuro perchè a me non dobbiamo fare 20 km a imballare 20 km a raccontere soprattutto con i carri poi ah tra l'altro mi ha fatto tipo mentre stavamo attrabbiando il set sono successi dei disastri nel senso che veniva tipo notte poi giorno poi qual'è che succedeva d'altro ah se ero pagato il carro se di fortuna se era riempito anche se non di grafica al 100% io lo vedevo vuoto ma è di grafica ah a me no vabbè comunque era pieno e e è successo delle altre robe ah sì poi mi fanno imbarcato col T6 nooo cosa è successo? ho andato a chiudere i buchi con la traccia fila giù eh bravo eh bravo eh sì poi non so se vi metterò in sovraimpressione quello che abbiamo fatto oppure farò un video a parte penso farò un video a parte dove farò tipo tutti i best della serie e metterò anche quella quella parte lì cioè praticamente il treno ci ha fatto su T6 e e ho rischiato anche che facesse sulla trebbia perché come un esame mi ero incastrato eh no non la trebbia scusate con la barra il del 69 e mi ero incastrato sopra il passaggio a livello ma in realtà mi ha chiamato il treno io per boh penso due tre metri sono riuscito a uscire se no mi faceva su anche quello peccato quando ho finito questo case lo uso da concimare buona fortuna no perfetto ok e si io ero più perdo più tempo a lasciare indietro i pezzi a riprenderli che passare cinquanta volte perché non sono abituato con lo snodo vedete fa disastri sono io che faccio i disastri però diamo la colpa al trattore oddio ecco clack crashato perchè? oh io mi son visto l'assimilatrice che andava ma sei crashato no? si sei crashato ma io sto riuscendo vero se ah comunque adesso siamo arrivati a una bella buona parte di video e tu non vuoi farmelo buttare via quello che ho già fatto ti dico che prima non ho interrotto e e e rifatto partire ho fatto tutto un pezzo e ah addirizziamo un po' che è qua questo e ok sincronizzazione dati chissà che è anche veloce no? dieci 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 dai no non dirmi che proprio hai abbandonato te no no scusate no non dirmi che non fa entrare si perchè ragazzi ogni tanto succedono le di queste cose che praticamente non fa entrare tanto farming alla luna torta si appunto vabbè ragazzi direi che finiamo qui la puntata per vedere se sistemare tanto non ha senso poi riprendere ormai siamo un po' della fine abbiamo fatto vedere gli acusti per oggi da Dan e l'amore e Samy è tutto ciao a tutti ciao a tutti